Tutto il collegio è solo su RaiPlay. Scarica l'app. Essere dolci può riportare un po' di calma. Vedere dolci proibiti, al contrario, può far scatenare i desideri più profondi. Durante la ricreazione abbiamo visto tutte le caramelle. Alla fine poi la sorvegliante ha lasciato le chiavi sopra il mobile. Dove sta sopra? La prendo con le mani. No, è stanotte. No, la prendo comunque così poi stanotte la possiamo dire. Quindi stasera probabilmente ci sarà un grande furto. Ci siamo? Andiamo, andiamo. Questa? Veloce, 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 veloce. Chissà se la notte porterà consiglio o se invece i collegiali manterranno i loro cattivi propositi. Intanto però... Venga signorina Brucia, venga, venga, va. C'è ancora una questione in sospeso da risolvere. Allora, visto che il preside non c'è, ha dato a me il compito di verificare quello che ha fatto oggi. Ma prego, appoggi. Cosa doveva fare? Dovevo copiare. Questa pagina qua. Fino a qua. Vi faccio vedere. Allora, povertà e rabbia. Migravano a fermare il cognito di un viaggio lungo. Trazziante Gaetano, se la mia pagina tra i suoi... Le prime muoiono. Va bene. Qui la punizione c'è. Quindi l'ha fatta, giusto? Perché ha detto no subito? Eh... Cioè, cercare sempre di mettermi sulla difensiva e quindi risultare magari anche arrogante a volte. è una cosa che facevo quando sono piccola. Ma piccola da quanto? Lei non è proprio grandissima, no? No, nel senso tipo anche quando avevo quattro anni non è che ero, diciamo, una bambina tanto... simpatica. E perché secondo lei non era simpatica? Perché mi mettevo sempre sulla difensiva e ero arrogante. A quattro anni arrogante? Sì, anche. Cosa faceva per essere arrogante? Cosa diceva? A mamma gli ha cavato un occhio. Scusi, in che senso? Mi spieghi bene? Eh, invece a lei l'ho fatto così. E l'ho fatto male. L'occhio comunque c'è, vero? Mi rassicuri? Sì, sì. Sì, più o meno perché... Cioè... O sì o no. Dall'occhio dove l'ho tirato io la cosa con il mignolo non ci vede tanto bene. Di qua... Cioè, non mi ricordo quale occhio. Però tipo da uno ci vede meglio e dall'altro ci vede di meno. Però adesso non è una bambina. Non è quella bambina lì. E se provasse a fare dei passi avanti? Ci provo. Lei vorrebbe farli? Sì. Ah. Perché? Perché a me non piace il mio carattere. Le piacerebbe provare a sperimentare qui questa cosa? Almeno a provarci. Sì? Provi ad esempio a fare questo primo passo con i professori. A lezione. Le do un consiglio. Partecipi. Alzi la mano. Faccio vedere come alza la mano. Un po' più grintosa. Decisa. Ecco, ma proprio la tenga su. Per favore posso parlare professoressa? Ok. Facciamo una prova? Devo dire. Faccio finta che sono una pettolicchia. Allora signori, io vi do dieci pagine di compito da studiare. Lei magari non è d'accordo, ma cosa dice? Eh, posso parlare per favore professoressa? Cosa voleva dirmi signorina Bruscia? Eh, dato che abbiamo già tutti i compiti potrebbe venirci incontro e darci meno pagine. Ma va bene. Può andare. Grazie. Mi sembrava dare la parola della signora Sovigliante perché lui mi ha fatto capire e lui mi ha aiutato. Come bella! Mi sembrava dare la parola dell'ipte letter. Come bella, per favore essere consigliato, ché? Mi sembrava deve essere anche qui. L'epoca! Allora come. Il da un luogo, 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 un luogo. Grazie a tutti.